I giovani centauri della Stelz, molto conosci in evidenza al Trofeo Umbria Lazio Toscana il 2021 di gare, è stata aperta dalla partecipazione al campionato interregionale promosso dalla Wisp che al Cossodromo di Città di Castella ha visto i piloti del team maritino scendere in pista e ottenere dei risultati che hanno trovato il loro apice nel primo posto di Leonardo Gervasio nella categoria due tempi amatori. Questa manifestazione ha rappresentato un buon banco di prova del lavoro svolto in allenamento negli ultimi mesi che ha permesso al tecnico Andrea Botti di seguire la crescita tecnica degli atleti della Stelz Motocross e di ottimizzare le prestazioni delle moto con i primi riscontri che sono risultati particolarmente incoraggianti. La prestazione più rilevante porta alla firma di Gervasio del 2006 in attesa di misurarsi nei campionati federali della FMI ha chiuso al primo e al secondo posto le due manche di gara piazzandosi così in cima alla classifica di giornata. Nei due tempi amatori era presente anche il suo coetaneo Kevin Botti che nonostante la pista resa pesante dal maltempo ha registrato un bel miglioramento dei tempi e ha chiuso il trofeo con un doppio quarto posto al secondo gradino tra i piloti toscani. La gara ha registrato anche il debutto assoluto con i colori della Stelz motocross dell'Italo Uruguayano Cristian Iardo del 96 nella categoria MX1 esperti agonisti con il Centauro che ha accusato la pesantezza del circuito bagnato e che ha chiuso al decimo posto di giornata.